Si dice sempre che la prima non è mai facile, insomma stasera l'avete fatta sembrare facile quasi fino alla fine e poi si sentono un po' inceppati. Sì, abbiamo giurato tre quarti molto solidi, molto equilibrati in campo anche nelle scelte, tenendo una squadra comunque piena di talento a 50 punti alla fine del terzo quarto. Poi abbiamo assistito a un mezzo tentato suicidio dell'ultimo quarto dove siamo andati un attimino, siamo deconcentrati nella parte difensiva sulle loro caratteristiche individuali. Hanno giocatori molto forti di uno contro uno che hanno trovato soluzioni facili, ci hanno fatto perdere un po' l'inerzia della partita, un po' il controllo anche dei nostri attacchi è diventato un po' sterile, un po' scostante e questo li ha fatti rientrare in partita. Poi in fondo abbiamo ritrovato un po' la luce della ragione e ci siamo rimessi in carreggiata. Era importante perché la prima si sa c'è sempre un po' di tensione e di emotività in più ma sono stati molto bravi a portare due punti contro una squadra che sarà protagonista di questo girone. 29 punti nel primo tempino, insomma anche stasera è un attacco molto bene come nelle ultime amichevole. Sì, per ora è una costante ma non è tanto nel punteggio quanto nelle scelte, abbiamo preso i tiri che volevamo prendere e quindi bene così la squadra è convinta di poterseli prendere, è convinta nelle idee che proposte nell'allenamento, quindi lavorano molto serenamente e il merito va anche a tutti quelli che non sono entrati, ai ragazzi del settore giovanile che hanno fatto sì che questa prestazione fosse poi culminata con una prestazione comunque performante qui in casa. Con Maric guadagni molta pericolosità in attacco. Sì, Mirko lo conoscevo e ha toccato pochi palloni ma quei pochi comunque ha fatto già vedere che è un giocatore comunque pericoloso e questo ci permette un pochino di più di avere spazio dentro l'area, infatti ha trovato molte soluzioni De Leone dato che sul perimetro comunque i nostri giocatori con Mirko hanno acquisito una pericolosità maggiore e quindi diciamo anche le squadre avversarie, in questo caso Virtusiena, sono stati un pochino incerti nell'aiutare dentro l'area, quindi comunque questo apre degli spazi che magari avevamo un po' in difficoltà l'anno scorso ad avere. Però sono contento così, piano piano questa è la prima e ora andiamo a fare una trasferta difficilissima contro Costone che credo abbia battuto Quarrata. Stasera ha messo in rampa di lancio Tosti, mi pare che ti abbia anche risposto bene. Sì, sì, Giovanni come gli altri ragazzi hanno lavorato tutti questi anni molto duramente e il duro lavoro che magari era dietro le quinte e poi deve essere ripagato con la fiducia, la fiducia meritata e quindi ha fatto benissimo oggi, deve fare ancora meglio, non deve smettere di lavorare ma siamo qua apposta.